Un problema è quello dei mitili coltori tarantini che il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera di La Puglia domani ha preso a cuore. Scalera li ha incontrati per capire le azioni da intraprendere, visto che quest'anno hanno perso circa il 50% di mitili prodotti a Taranto. A causa ancora una volta delle alte temperature registrate in Mar Piccolo, 7.000 tonnellate che, radotte in termini economici, corrispondono a oltre 5 milioni di euro. A contribuire al problema purtroppo di questa categoria anche il mancato utilizzo del primo seno del Mar Piccolo, inoltre la perdita del seme purtroppo andrà a pesare sulla stagione in arrivo. A cominciare dal primo seno del Mar Piccolo che va dissequestrato e quindi io mi prodigherò per parlare con le istituzioni preposte, a cominciare dal comune di Taranto al prefetto e al capiteria di Porto, per vedere quali sono le condizioni per poter dissequestrare quest'area. A cominciare poi da tutto il discorso della semina dei prossimi anni, perché i danni non si hanno soltanto quest'anno, ma sono anche per l'anno prossimo. Quindi come istituzione, come consigliere regionale porterò all'attenzione della regione Puglia queste problematiche per dare ristoro alle famiglie, alle circa 400 famiglie che lavorano in questo settore e soprattutto ai 30 operatori del settore, 30 cooperative che operano nel settore miticultura a Taranto, che non possono stare ai tempi della burocrazia. Qui bisogna abbrevare i tempi, dare ristoro alle famiglie che ne hanno bisogno, perché devono andare avanti quest'anno e anche il prossimo anno. Questo sarà il mio compito, ho preso a cuore questa situazione. Taranto non può essere abbandonata, qui bisogna aprire un'avvertenza Taranto e parlare di queste problematiche che toccano non solo noi che siamo nelle istituzioni, ma toccano l'intero territorio, l'economia di un territorio che non può essere abbandonata a se stessa. Ringraziamo l'interessamento che ha mostrato il consigliere qui presente Antonio Scalera per quelle che sono le nostre necessità e speriamo che possa operarsi in consiglio regionale perché queste problematiche non si ripresentino ogni anno, come succede in pratica. Noi onestamente non sappiamo come la politica possa rispondere in maniera veloce, però onestamente dovete tenere presente che il nostro prodotto, abbiamo aspettato un anno per poterlo vendere e poter realizzare qualcosa e ora ci ritroviamo nell'impossibilità di poter fare tutto questo. Siamo qui al secondo sino di Taranto ed è successo quello che è successo, la moria di Cozze e del Sime, la produzione per l'anno prossimo. Stiamo cercando di capire con gli amici Antonio Scalera e con gli altri miei colleghi come dobbiamo fare quest'anno fino all'anno prossimo mantenere le nostre società e per dare da mangiare ai nostri figli. Speriamo che le istituzioni e la politica di questa nazione si mette la mano al cuore di darci una mano, innanzitutto economicamente e soprattutto di velocizzare le pratiche per le concessioni del primo sino, di snellire la burocrazia un po' perché siamo un po' stanchi per non dire che non ce la facciamo più.